E allora quando è che una donna che conosce, mettiamo un uomo oggi, dovrebbe dargliela? Esiste un momento giusto? Salutiamo anche Betty Kotich, Roberta Black, insomma Rosie, se esiste un momento giusto per darla e Circe o per non darla. Allora, un'intimità fisica può essere un elemento importante nelle relazioni, ma è possibile anche far desiderare un uomo, una donna può anche far desiderare un uomo senza necessariamente dargliela subito fondamentalmente. Quali sono le strategie che una donna può creare per alimentare il desiderio e creare una connessione profonda senza darla? E poi ovviamente dovrà anche darla, però inizialmente bisogna stimolare il desiderio. Perché? Intanto devi aspettare che qualcuno te la chieda, perché diciamoci la verità, ci sono donne che la danno anche se non gli è stata chiesta, e anzi si propongono di darla senza che neanche sia stata chiesta. E questo è il punto negativo, almeno devi aspettare che te la chieda. Perché veramente ci sono donne che la esibiscono, diciamo, e la danno... Questo ovviamente è l'antitesi del desiderio, no? È il canto del cigno del desiderio, è il canto del cigno della seduzione. Quindi prima cosa aspetta che te la chieda. E poi, e poi devi tenere presente che una delle chiavi per far desiderare un uomo è sicuramente coltivare fiducia e sicurezza in te stessa. La fiducia in te stessa è un'attrattiva che risulta magnetica, quindi coltiva la tua autostima, che è molto più importante che darla, diciamo, lavora sulla tua crescita personale, ad esempio abbonandoti al mio canale Massimo Terramasco e seguendo il seminario con l'abbonamento base, i vari seminari che faccio, abbraccia, diciamo, le tue qualità, sponsorizza le tue qualità, credi in te stessa, credi nelle tue qualità. E questo è un passo fondamentale per suscitare il desiderio, per generare desideri in un uomo. Salutiamo nel frattempo Stella Marina e salutiamo anche Crezi Robi. Beh, ovviamente se siete vecchie come Stella Marina dattela subito perché già va in putrefazione altrimenti. Però se non siete vecchie come Stella Marina potete anche tenervela un po'. Intanto, una volta che... Prima cosa, coltivare la fiducia e la sicurezza in te stessa. Successivamente, cura il tuo aspetto esteriore ed esprimi il tuo stile. Cioè, l'aspetto esteriore, che deve essere un aspetto, possiamo dire, è importante che sia... che l'aspetto esteriore sia un aspetto, come possiamo dire, diciamo, curato. È fondamentale che l'aspetto esteriore sia un aspetto curato, ma deve essere, come lo dico, cioè come affermo io e ne sono veramente convinto, deve essere un aspetto naturale, deve essere un aspetto naturale. Quindi, bando alle ciance, bando alle ciance e evitate di fare... adesso non vado di nuovo più su queste tematiche, evitate di fare le rifattone. Quindi, tra l'altro, curare il proprio aspetto esteriore non si tratta di conformarsi agli stereotipi di bellezza imposti dalla società, ma intendo prendersi cura di se stesse, esprimere la propria personalità attraverso l'abbigliamento, attraverso l'aspetto fisico, mostrare sicurezza in se stessi. Quindi, l'attenzione al dettaglio poi è un punto fondamentale, perché l'attenzione al dettaglio alle piccole cose può far emergere un senso di fascino irresistibile. Un altro punto molto importante è creare una connessione mentale ed emotiva. Per far desiderare un uomo, diciamo, senza dargliela, è fondamentale prima creare una connessione mentale emotiva. Quindi, dedica un po' di tempo a conoscerla a un livello più profondo, ascolta quali sono le sue passioni, cerca di stimolare la sua mente, ad esempio, con conversazioni interessanti, non farti percepire come una ignorantona, una che non sa portare avanti una che non sa portare avanti una discussione, che non sa portare avanti un qualcosa di intelligente, no? Perché ci sono donne che sanno portare avanti una discussione, ma in modo stupido, no? Parlando di puttanate assurde, o che comunque non interessano alla persona, non interessano al maschio di qualità. quindi cerca di far vedere che hai anche, diciamo, da un certo punto di vista una intelligenza conversazionale. Questo è un punto, credo, fondamentale, un punto molto importante questo, perché altrimenti se tu non riesci a fare questo veramente sei una capra che difficilmente riuscirà a conquistare qualcuno. Quindi è molto importante creare una connessione profonda, quindi da questo punto di vista anche attraverso il dialogo. E poi mantiene una certa dose di mistero. Il mistero è un potente strumento di seduzione, non svelare tutto di te fin dall'inizio, ma piuttosto lascia che l'uomo ti scopra, adesso parlo degli uomini, ma queste strategie valgono anche per le donne ti scopra lentamente e scopra le diverse sfaccettature della tua personalità. Mantieni una dose di mistero, mantenere una dose di mistero crea sicuramente un senso di curiosità, di desiderio ed è un punto fondamentale. E poi crea dei momenti di tensione, perché la tensione emozionale, stimolare le tensioni emozionali è un punto molto importante, è un punto fondamentale. il gioco della seduzione può essere alimentato da momenti di tensione, la capacità di flertare, attrare con il linguaggio del corpo, utilizzare lo sguardo, il contatto casuale, le allusioni, la comunicazione, tra l'altro la comunicazione ad esempio seduttiva è un punto fondamentale, ad esempio quello che sto spiegando diciamo quello che sto spiegando nel mio seminario sul canale Massimo Terramasco, quindi la comunicazione seduttiva ipnotica da un certo punto di vista può stimolare veramente attrazione e quindi imparate ad utilizzarla, è fondamentale. poi ovviamente quindi coltivare anche una vita pagante è molto importante cioè un aspetto trascurato nella seduzione è quello di coltivare una vita pagante al di fuori della seduzione stessa, avere hobby, interessi, amicizie ti renderà sicuramente più attraente agli occhi di un uomo, mostrare che hai una vita ricca, soddisfacente ti rende più desiderabile poiché ti fa capire che sei indipendente che la tua felicità non dipende dalla relazione con lui che è un punto molto importante è un punto fondamentale questo ora poi ovviamente bisognerà anche arrivare a una un'intimità fisica e l'esperienza diciamo dell'intimità fisica è sicuramente un aspetto importante in una relazione perché anche essa darla insomma può essere una fonte di connessione di piacere di crescita emotiva ovviamente se l'hai appena conosciuto è meglio non darla la decisione di darla a uno che è appena conosciuto è spesso deleteria è spesso deleteria perché prima di darla è fondamentale intanto sapere quali sono le tue aspettative perché se la tua aspettativa è soltanto quella di darla non c'è problema diciamo che basta darla e se il tuo obiettivo è solo quello non ha nessun diciamo non ha nessun nessuna valenza ovviamente sapere quello che tu vuoi è fondamentale quindi devi considerare i tuoi valori personali devi considerare la visione della vita che hai e prenditi il tempo per riflettere e per capire se ti interessa soltanto diciamo una relazione o anche una one night stand come direbbe Green Apple dagliela subito uno l'hai conosciuto in discoteca oggi dagliela oggi stessa se diciamo ti fa piacere da questo punto di vista ma se tu vuoi diciamo creare tensione creare emozione devi prima conoscere una persona e devi far sì che questa persona investa qualcosa su di te qualcosa non significa che ti deve offrire una cena non significa che ti deve dare qualche cosa diciamo di per sé fondamentalmente ma è importante è importante tenere presente questi fatti questi fatti fondamentali bisogna imparare bisogna imparare a capire quali sono le cose che vogliamo ottenere da una situazione da una relazione no quindi se tu vuoi ottenere una relazione a lungo termine devi imparare a creare un desiderio mettere dei vincoli e vedere se questa persona accetta dei vincoli è importante che si crei prima una comunicazione non bisogna prima darla e poi parlarsi bisogna prima parlarsi se poi nel momento in cui questa persona diciamo si manifesta manifesta interesse manifesta desiderio nei tuoi confronti allora è fondamentale prima di intraprendere diciamo così prima di darla con uno appena conosciuto è utile dedicare è fondamentale dedicare del tempo a costruire un legame emotivo cioè a farli innamorare perché molte donne invertono la causa con l'effetto cioè non devi darla sperando di farli innamorare devi prima farli innamorare e successivamente darla questo è un punto fondamentale tu capisci che questa persona è innamorata di te quando investe su di te investe tempo investe diciamo investe come possiamo dire investe energie investe investe qualche cosa su di te se tu vuoi creare una relazione che possa durare nel tempo altrimenti come dire non ci sarà un coinvolgimento se tu speri di farli innamorare dandogliela questo è praticamente fallimentare perché spesso anzi gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore si disinnamorano un po' facendolo perché capita questo perché come dire il desiderio è la mancanza di possesso mentre il sesso fa rima con possesso quindi certo che quindi inevitabilmente inesorabilmente c'è un calo di desiderio ci sarà sempre un calo di desiderio nel momento in cui avviene un contatto sessuale però e questo è molto importante c'è una grossa differenza che se tu l'hai coinvolto prima ed hai innamorato questo calo di desiderio dopo che gli è data rigenererà il desiderio e dopo un po' questa persona avrà di nuovo desiderio di te e quindi la relazione potrà proseguire se invece gliela dai quando il desiderio non era ancora scaturito non si era ancora consolidato andrai in un desiderio negativo e questo non gli interesserà neanche più vederti una volta non gliene fregherà più niente diventerai praticamente trasparente e ovviamente quindi questo è il concetto fondamentale perché un calo di desiderio nel momento in cui gliela dai ci sarà sempre però se questo calo di desiderio si innesta su un innamoramento già presente su un coinvolgimento già esistente sarà semplicemente un calo fisiologico e poi ci sarà automaticamente una ripresa quindi il grafico andrà se invece parti da zero andrai sotto potrei anche disegnarvi un grafico diciamo per voi che siete ignoranti come delle capre potrei anche disegnarvi un grafico cioè in un caso quando partiamo da un desiderio che cresce nel momento in cui c'è il sesso il desiderio cala in questo punto qua c'è il sesso e poi però riprende quindi sarà tutta una cosa di questo genere no? questo è l'aspetto positivo diciamo quando qua sull'asse delle ascisse diciamo delle ordinate c'è il desiderio se tu la dai quando il desiderio diciamo arriva a un certo punto ci sarà un calo ma poi automaticamente fisiologicamente si riprenderà ci sarà un calo e il coinvolgimento questa linea del coinvolgimento andrà verso l'alto se invece tu gliela dai quando il desiderio è praticamente zero cioè il coinvolgimento è praticamente zero questo è il grafico del coinvolgimento cioè di fatto non è innamorato è a zero e tu parti dal sesso vai a zero vai in questo modo avrai un grafico al negativo praticamente ovviamente cioè questo è interessante no? questo qua ci sarà il sesso e qua ci sarà di nuovo il sesso e qua ci sarà di nuovo il sesso e sarà tutto al negativo e quindi non ci sarà più una ripresa no? quindi la cosa fondamentale è partire da un aver creato prima un coinvolgimento un coinvolgimento sufficientemente alto che col calo non vai sotto perché anche se ci sarebbe la terza possibilità che hai creato un coinvolgimento basso e che col sesso vai sotto e anche in quel caso lì non funziona quindi bisogna tenere presente questi fattori no? questi fattori sono fondamentali per far innamorare quindi come fai a capire quindi quando è il momento giusto? beh puoi capire che è il momento giusto quando senti che questa persona ha investito su di te ovviamente poi come puoi incrementare la cosa? beh puoi incrementare la cosa puoi incrementare la cosa se ad esempio dopo avergliela data tendi a sparire tu per dire no? allora puoi dare di nuovo un po' di tensione ma è fondamentale comunque aver creato prima un legame emotivo perché se prima non hai creato un legame emotivo abbastanza solido il sesso lo distruggerà è come avere dei figli in una relazione non consolidata no? questo è ancora peggio eh? se tu se due che stanno assieme e non è una relazione molto consolidata e hanno dei figli sicuramente si separeranno perché i figli non tendono a unire in una coppia no? ancora molto di più del sesso no? perché i figli ovviamente richiedono una stabilità nella coppia no? perché i figli ti fanno girare i coglioni si svegliano di notte fanno casino e quindi diciamo non ottieni poi di fatto nessun risultato fondamentalmente no? quindi molte persone ad esempio molte coppie che credono che hanno un basso coinvolgimento credono di coinvolgersi facendo dei figli praticamente poi alla fine una volta che hanno fatto dei figli si separano definitivamente e questo è un po' è fondamentale nella sessualità ovviamente il diciamo la cosa è molto più ridotta rispetto ad avere dei figli però sempre funzioni in qualche modo simile quindi è importante diciamo non cadere in queste tentazioni non essere diciamo non essere vincolata e essere vincolati fondamentalmente ogni volta che un figlio si sveglia un coito muore e beh esattamente no questo è molto importante da tenere presente questo e poi quindi il il quarto un altro punto fondamentale diciamo è creare comunque un benessere emotivo con quella persona no ognuno ha i propri ritmi che devono essere rispettati ad esempio come dire bisogna tenere presente anche le esigenze dell'altra persona anche le esigenze sessuali bisogna un po' uniformarsi fondamentalmente questo è un altro punto importante non esiste comunque una regola rigida per definire qual è il momento giusto per darla dipende da quanto ovviamente i fattori fondamentali sono da quello che ti interessa a te diciamo se ti interessa soltanto avere un orgasmo dargliela anche subito fondamentalmente no ma il fattore cruciale sarebbe il legame emotivo va prima creato un legame emotivo non sperare di creare un motivo attraverso l'intimità fisica perché l'intimità fisica va a celebrare un legame già esistente che questo è fondamentale la sessualità non crea un legame va a celebrare un legame già esistente e questo è il punto fondamentale ho visto cadere diciamo molte malgascione su questo fronte ma io gliene ho data io gliene ho data pensavo che mi amasse io gliene ho data e se gliele hai data vuol dire che diciamo gliele hai data nel momento sbagliato quindi questo è un altro punto da tenere presente il fatto che tu gliele hai data non conta un cazzo per farli innamorare è una speranza vana quella comunque ovviamente diciamo tenere presente che se tu la dai quando c'è una mancanza di stabilità emotiva porta al come dire alla fine della relazione cioè se tu gliela dai quando non si era ancora creata stabilità emotiva questo genera una disconnessione totale da un punto di vista emotivo e te ne renderai conto perché questo qui dopo sparirà quindi oppure il secondo rischio sarà quello di basare una relazione soltanto su un incontro sessuale basta ma questo non ti cercherà mai non ti telefonerà mai non ti scriverà mai quando non saprà da chi andare piuttosto che passare all'automasturbazione manderà un messaggio a te questo è un altro punto fondamentale quando parliamo di trombamicizie quando questo proprio quando non sa cosa fare piuttosto che farsi un pippone da solo allora ti cercherà e questo è un punto fondamentale ma non è perché ti cerca è perché è coinvolto con te ma non ti scriverà non ti parlerà non gliene fregherà un cazzo di stare con te e ti cercherà soltanto quando non avrà trovato nessun altro allora dovrà decidere tra Federica e te e allora magari sceglierà te invece se magari potrebbe ancora scegliere Federica quindi dipende un po' insomma quindi diciamo che darla troppo presto comunque influenza la percezione complessiva della relazione e quindi bisogna avere capire qual è il momento giusto ovviamente non tutte le relazioni seguono le stesse dinamiche ma è fondamentale definire alcuni parametri fondamentali che sono che cosa vuoi tu e quando diciamo e creare prima una connessione emotiva ma la regola è e vale sempre se tu non hai creato connessione emotiva il grafico perché quando c'è la sessualità c'è sempre un fattore in discesa e questo nel maschio è fisiologico no è proprio fisiologico c'è un decadimento di attenzione un decadimento di attrazione e quindi se tu non hai creato prima un potenziale sufficiente il decadimento come ho fatto vedere nel diagramma va nel negativo e quindi poi andrà ancora di più nel negativo perché tu cercherai di conquistarlo dandogliela e otterrai esattamente l'effetto opposto quindi imparare diciamo a gestire queste cose è fondamentale